Rispondiamo con qualche piccolo fatto, questo accordo di programma era atteso ad esempio dalla Fiat a cui era stato promesso forse 4-5 anni fa, 6 anni fa, noi lo abbiamo realizzato, investiamo 150 milioni per realizzare una serie di progetti del comune, della provincia, dell'ANAS, dell'autorità portuale, dell'Interporto, dell'ASI, di una serie di enti che realizzano tratti di strada, illuminazione, banda larga, messa in sicurezza piuttosto che piattaforme logistiche che renderanno l'area industriale dei termini merese che è stata investita dalla scelta della Fiat di andarsene e quindi da una grave crisi la renderanno molto attrattiva.